Ciao raga, ciao, sono io, sono proprio io raga, sì sono io, sono io, ma io chi? Io, vabbè comunque, comunque sono io e a parte a dirvi questo, cioè benvenuti in questa nuova rubrica in cui praticamente parlo a bambera di cose a caso nel letto con questo giacchettino verde molto sex e niente, alla fine se uno ci pensa bene cosa c'è di meglio di me nel letto che parlo a bambera mentre indosso questo giacchettino verde molto sex, guardate, è sex o no? Cioè non è sex, è molto sex o no questo giacchettino verde? Non lo so, eh, io, cioè, ditemi voi raga e niente raga, perché se uno ci pensa bene, solo se uno ci pensa bene però, perché bisogna sempre pensare bene non è che ci sono cose molto migliori di io che parlo a bambera sul letto con questo giacchettino verde molto sex e che poi tra l'altro un giorno vi racconterò la storia di questo giacchettino verde molto sex un giorno però, perché adesso la devo inventare prima e vabbè, oltre a dirvi il fatto che ho questo giacchettino verde molto sex, non è che ho molte altre cose da dirvi oggi a parte che è cambiato l'orario e quindi sono sfasato vabbè, sono sempre sfasato, però oggi di più cioè siamo tutti sfasati perché, cioè, se ci pensate bene è cambiato l'orario cioè tutto cambia nella vita raga cioè un giorno eravamo lì alle superiori, ora siamo cioè un giorno eravamo all'asilo nido giocavamo a Yu-Gi-Oh scappavamo dalla maestra e poi le cose cambiano, no? ora siete qui che guardate questo video di me con questo giacchettino verde molto sex e poi cambia, cioè l'orario cambia troppe cose, no? ciao 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 ciao